Nel mio video precedente ti ho parlato di tutte le problematiche che puoi incontrare vendendo casa. Ma ora, sai come affrontarle? Scopriamo insieme quali soluzioni hai a disposizione. Ciao, sono Alessio Salvi e sono il titolare dell'Agenzia Salvi Immobiliare, specialista nel vendere a casa di Borgo Sattoli in provincia di Brescia. E ti do il benvenuto in questo nuovo video. Ecco le uniche tre soluzioni per affrontare i problemi legati alla compravendita. La prima soluzione è quella di vendere a casa da solo. Se non sei del settore e ti sta avventurando a vendere a casa da privato, prova a pensare a cosa potrebbe succederti se ti sfuggisse qualcosa, se l'acquirente si rifà contro di te. Sicuramente ti scontri con una lunga serie di problematiche. E intanto passano i mesi, sprechi tempo ed energia, il tutto per non pagare la mediazione all'agenzia. Alla fine però, solo dopo tutti questi tentativi che si rivelano quasi sempre fallimentari, la maggior parte dei proprietari supera tutte le sue titubanze e si rivolge alla fine ad un agente immobiliare. Al contrario, se riesci a trovare un potenziale acquirente, dovrai affrontare tutte le questioni inerenti al trovare un accordo completamente da solo. Oppure, se non hai le competenze, dovrai coordinare e gestire ogni questione informandoti, e quindi perdendo un sacco di tempo, e chiamare comunque in causa altri professionisti che dovrai ovviamente pagare. La seconda soluzione è quella di affidarti alle agenzie immobiliari generaliste, cioè che trattano qualsiasi zona e qualsiasi tipologia di immobile. In realtà, vendere una casa è molto diverso rispetto a vendere un locale commerciale, perché cambia quasi tutto dalla normativa ai parametri di stima e aspetti burocratici e legali. Un agente immobiliare generalista che prenda qualsiasi incarico dei due settori sarà sicuramente a conoscenza solo dei fondamentali. Un'altra categoria di agenti immobiliari comprende quelli che fanno una valutazione in due minuti, che, stranamente, è sempre vicina a quanto tu vuoi ricavare dalla casa. Il risultato è quello di una valutazione errata, che porta la tua abitazione ad aggiungersi alla lunga lista di immobili invenduti. La terza soluzione, ovviamente quella migliore, è quella di affidarti a un agente specializzato nella vendita di case. Io sono riuscito a delencarti tutte queste problematiche, perché ho fatto una scelta ben precisa. Tratto solo la vendita di case. Meglio fare una cosa, ma farla al meglio. Il vero professionista serio e affidabile si pone non come semplice intermediario barra apri porte, ma è un consulente che ti accompagna da quando stai pensando di vendere fino al rogito notarino. Quando decidi di vendere, un professionista non si avvale dallo slogan valutazione gratuita, ma ti offre una consulenza personalizzata, perché è specializzato nella vendita di case, conosce e tratta specificatamente la tua zona e ti fornisce una stima comparativa della tua abitazione. A ciò aggiungici che, oltre ad essere un punto di riferimento anche per gli acquirenti, conosce a fondo le dinamiche del mercato del tuo territorio e porta avanti un marketing mirato teso ad attirare compratore in target. Il tutto parte da una corretta valutazione. Ricorda quest'equazione. Al prezzo congruo di mercato, devi aggiungerci un minimo margine di trattativa, cioè un 5-7%, e otterrai che prima vendi più guadagni. È giusto dirti che se ti affidi a un vero professionista, però questo deve essere pagato e non puoi pensare di ricevere un servizio di alta qualità senza corrispondergli nemmeno un euro. Ricorda che a nessuno piace lavorare gratis, per cui ha un atteggiamento finalizzato esclusivamente a vincolarti. Poi, prova a pensarci, se un agente non è in grado di tutelare il suo lavoro e la sua professionalità, sarà in grado di tutelare il valore della tua casa? Lascio a te la risposta. E come sempre, spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al mio canale di YouTube se ancora non l'hai fatto. Seguimi anche sulla nostra pagina Facebook, visita il mio sito salvi-immobiliare.it e contattami per fissare senza nessun impegno la tua consulenza immobiliare personalizzata per vendere a casa. A presto! Grazie a tutti!